Vediamo un po' le proprietà di erba medica per quanto riguarda l'uso cosmetico. Viene utilizzata nei prodotti Take Care l'acqua distillata bio che contiene bioflavonoidi e antiossidanti e serve per la nostra perle come anti-invecchiamento per dare tono, elasticità e soprattutto luminosità alla pelle. Ma utilizziamo anche l'estratto dei semi che contiene le fitostimoline. L'estratto dei semi è molto importante perché sono le fitostimoline che danno le proprietà principali dei nostri prodotti. Le fitostimoline contengono glicoproteine, proteine e amminoacidi e hanno azione anti-invecchiamento, di elasticità cutanea, di antiossidante, mantiene la pelle integra, quindi tutta quella gamma di attività che noi chiediamo a un cosmetico soprattutto per la cura della nostra pelle. Grazie. Grazie.